La prima edizione delle giornate gastroenterologiche casertane si è tenuta venerdì 12 e sabato 13 maggio all'hotel Bambitelli di San Marco Evangelista. L'obiettivo dell'importante evento scientifico è stato quello di portare sul territorio casertano la cultura gastroenterologica internazionale. Responsabili scientifici la dottoressa Maria Erminia Bottiglieri e il professor Rosario Cuomo. A loro il compito di aprire la prima giornata del convegno. Al via la due giorni delle giornate gastroenterologiche casertane. Prima edizione. Noi siamo con uno dei due direttori scientifici del convegno che è la dottoressa Erminia Bottiglieri. Perché questa iniziativa? Quest'iniziativa è finalizzata a diffondere la cultura gastroenterologica, a far conoscere le gastroenterologie del territorio che lavorano sul territorio casertano e soprattutto le patologie, un aggiornamento sulle patologie gastroenterologiche. In effetti inizialmente questa iniziativa doveva essere fatta molto prima, prima nel 2019. Poi purtroppo col problema del covid che ci ha fatto perdere tre anni di vita professionale e personale è stata rimandata. Inizialmente voleva essere focalizzata solo su alcune tematiche. Poi invece abbiamo ritenuto necessario ed opportuno far capire che la gastroenterologia non è solo la sindrome di intestino irritabile o la malattia da reflusso. La gastroenterologia include le malattie del fegato, include le malattie delle vie biliari, include l'endoscopia. L'endoscopia è solo uno strumento della gastroenterologia, uno strumento attraverso cui noi arriviamo a formulare delle diagnosi. E quindi abbiamo invitato relatori di fama nazionale e internazionale per un aggiornamento sulle tematiche più cocenti. Chiaramente non possiamo abbracciare tutti gli aspetti, ma penso che veramente questi relatori che noi abbiamo invitato e anche i moderatori con il loro contributo, perché sono appunto relatori di elevata caratura, potranno apportare un cambiamento a quello che sono le nostre pratiche quotidiane, aggiornandoci sugli aspetti metodologici, terapeutici più recenti per le varie patologie gastroenterologiche. Dottoressa Bottiglieri, si parla di prima edizione, ci sarà quindi un seguito? Sì, intanto portiamo a termine questa che non è stato facile organizzare, perché organizzare un evento di un giorno e mezzo è stata una cosa molto impegnativa, grazie devo dire anche ovviamente al lavoro con il professore Cuomo, ma soprattutto anche con le direzioni strategiche dell'Asle Caserte e dell'azienda ospedaliera. Ecco, questo noi lo dobbiamo dire, non l'abbiamo fatto con le nostre direzioni che lavorano molto insieme, c'è un confronto, una sinergia, una collaborazione e questo ci ha spinto ad organizzare questo evento e ci spingerà ad organizzarne altri, perché noi riteniamo fondamentale che per migliorare la salità, per migliorare l'assistenza al cittadino sia importante lavorare sempre in collaborazione tra tutti gli attori, tra tutte le persone che sono impegnate ad aiutare i cittadini, quindi senz'altro ce ne saranno altre, forse monotematiche, ecco adesso ne abbiamo fatto una in generale, poi saranno monotematiche solo su alcune patologie. Professor Rosario Cuomo, l'altro responsabile scientifico di questo grande convegno, giornate gastroenterologiche casertane, prima edizione, un'edizione molto importante che vede anche la collaborazione dell'azienda ospedaliera di Caserta ma anche dell'Asla. Di che cosa si parlerà e quali saranno i temi approfonditi, professore? Sì, innanzitutto sono molto soddisfatto e contento di aver organizzato questo evento che è il primo della serie, del giornate gastroenterologiche casertane, che speriamo di poter portare avanti negli anni. Nasce appunto da una collaborazione tra l'azienda sanitaria locale e l'Aorn di Caserta, l'azienda ospedaliere di rievo nazionale Sant'Anna e San Sebastiano, per cercare di portare la cultura gastroenterologica nazionale e internazionale nel territorio. Di cosa tratteremo? Tratteremo di vari argomenti. Abbiamo cercato di coprire uno spettro di temi abbastanza largo per poter soddisfare le esigenze informative del popolo dei medici e soprattutto degli specialisti in gastroenterologia. Allora parleremo di fegato, parleremo di itteri ostruttivi, cioè di patologie in cui la via biliare è ostruita e quindi da una serie di manifestazioni importanti e bisogna agire in maniera efficace con strumentazioni e tecniche come la colangiopanctografia retrogradendoscopica. Ci saranno temi che riguardano le patologie organiche come la malattia diverticolare, le malattie infiammatorie croniche intestinali. Ci sarà una sessione dedicata alle patologie funzionali, tra cui ci sarà la sindrome di intestino irritabile e la malattia del reflusso gastroestofageo e nonché alla celiachia. Nella seconda giornata, seconda mezza giornata di sabato, tratteremo di alcuni highlights, tra cui spicca la questione dell'intelligenza artificiale in endoscopia e in particolare anche quella dell'infezione da elicobacteri. Infine concluderemo il convegno parlando di un argomento estremamente importante che è l'emergenza e urgenza gastroenterologica e con l'organizzazione delle reti di emergenza gastroenterologica di cui si sta parlando molto anche in Campania. Professore, qual è lo stato dell'arte di questo settore? Come siamo messi? Siamo messi che ci sono tutta una serie di campi in enorme sviluppo. Citavo prima l'intelligenza artificiale, c'è la capacità della macchina di leggere delle immagini endoscopiche, quindi di interpretare, sostituendo un parolone, affiancandosi all'operatore per interpretare i quadri endoscopici. Quindi c'è molto da discutere, c'è sulle tecniche strumentali, in particolare per gli interiostruttivi. Si parla anche di piccoli strumenti che entrano nella via biliare in grado di guardare, di diagnosticare meglio le patologie. E poi c'è tanta altra carne a cuocere, ma chi è interessato venga a seguire il congresso. Direttore Gobitosa, questa grande iniziativa che vede l'ospedale di Caserta coinvolto in questi due giorni, anche per esaltare quelle che sono le eccellenze sanitarie su questo territorio? Allora, più che esaltare le eccellenze di questo territorio, questa iniziativa vuole dimostrare proprio quello che è la collaborazione tra azienda ospedaliera e ASL, l'integrazione ospedale-territorio, anche per quel che riguarda l'emergenza gastroenterologica, passa anche attraverso queste iniziative, questi eventi, dove professionisti dell'ASL, professionisti dell'azienda ospedaliera si confrontano su come affrontare in collaborazione quelle che sono appunto le emergenze gastroenterologiche. È una queste delle iniziative che l'ASL e l'ospedale stanno mettendo in piedi in questo ultimo periodo. abbiamo fatto un protocollo d'intesa anche per la gestione dei codici minori in pronto soccorso, stiamo dando dal nostro canto massima disponibilità per il teleconsulto, soprattutto da un punto di vista neurochirurgico. Queste sono le belle iniziative tra un'azienda sanitaria su un territorio che copre un territorio di un milione di abitanti e l'unico DEA di secondo livello in questo territorio. Con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Caserta, l'Ordine ha patrocinato questa grande iniziativa, due giornate gastroenterologiche casertane, la prima edizione, che esalta anche quella che è l'operazione sanitaria in questo territorio, e quindi le eccellenze. Una bellissima organizzazione. Mi congratulo con la dottoressa Bottigliere e il professor Cuomo per essere partiti in questo percorso. È la prima giornata gastroenterologica casertane. Tutto il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta ha voluto fortemente contribuire e patrocinare questo evento che vede da programma un'importante organizzazione con tanti relatori e moderatori di fama nazionale che forniranno dei contributi chiaramente importanti per l'arricchimento scientifico e culturale di tutti i discenti e quindi in particolar modo di tutta la classe medica casertana. Direttore Brasotti, l'ASL di Caserta sempre in prima linea per iniziative, in questo caso giornate gastroenterologiche casertane, prima edizione, ma l'ASL di Caserta si sta impegnando attivamente su tutto il territorio anche con investimenti proficui? Sì, certo. Oggi è una bella giornata, si inizia un confronto scientifico, tecnico, medico, ma l'ASL è attiva su tutto il territorio. Voglio solo ricordare, la gastroenterologia a Marcianise è un punto di riferimento per noi e proprio Marcianise ha in pancia adesso, in pochi giorni, l'approvazione della gara d'appalto per implementare, ampliare l'ospedale di Marcianise. Pensate, solo l'ospedale di Marcianise ha un investimento di oltre 25 milioni di euro. L'ospedale di Marcianise è stato dotato della risonanza magnetica del Tesla, che poi presenteremo ufficialmente quando partirà. L'intero territorio dell'ASL di Caserta è impegnato per oltre 300 milioni di investimento tra PNRR e Articolo 20, un grande investimento sull'area della sanità. Ma io dico che su questi investimenti non è solo una questione di soldi, è una questione di cultura. Il PNRR è un riferimento che è di cultura della nuova sanità. Lei ci tiene moltissimo a questo territorio fin dall'inizio, da quando si è insediato. Da Napoli vedevo questa provincia, come dire, periferica, lontana da me. Poi ci sono arrivato e per la mia formazione culturale, per le mie attività professionali, mi rendo conto di una provincia attiva, dinamica, forte, innovativa. Questo mi ha colpito e mi ha colpito anche la dirigenza che ho trovato all'ASL di Caserta, di alta professionalità, al di là di quello che si dice, al di là di quello che si legge. Io vedo in questa ASL un ASL dinamica, che è sempre pronto. Non dimentichiamo, è l'ASL che con Sunny Arp, che poi adesso è stata inserita sulla piattaforma, sotto la piattaforma Sinfonia, è stata la prima ASL che, possiamo dire, passa dall'analogico al digitale. Quindi immaginate, io penso che questo è un territorio importante per la campagna, importante per il paese. Qui ci sono menti e ci sono persone che hanno voglia di lavorare. A me questo mi fa molto piacere. Dottore Sannecchiarico, parliamo di emergenza in questo settore di cui oggi si parla. Qual è lo stato dell'arte e che cosa si sta facendo all'ospedale di Caserta? Sì, oggi siamo qui in questo convegno proprio per parlare di questo e naturalmente ringrazio il professore Cuomo e la dottoressa Buttiglieri che hanno organizzato questo convegno perché danno l'opportunità anche di far conoscere quello che facciamo qui nel nostro territorio. Infatti il convegno è proprio territoriale. Questo è importante perché in effetti il sistema di emergenza è cambiato tantissimo nel corso degli anni. dal 92 in cui praticamente da servizio è diventato sistema dove prima si mandava l'ambulanza sul territorio per soccorrere chi stava male adesso invece è un servizio quindi è un'organizzazione integrata tra varie unità operative e varie professionalità e noi al Sant'Ana e San Sebastiano di Caserta siamo DEA di secondo livello quindi abbiamo proprio un dipartimento di emergenza e urgenza dove diverse unità operative funzionalmente si integrano in quella che è la gestione dell'emergenza. Per ritornare a quella gastroenterologica che è il tema di cui parliamo oggi anzitutto c'è un grande impegno a livello regionale su questa tematica tant'è che c'è un tavolo permanente istituito in regione dei dirigenti regionali di cui stiamo facendo parte che proprio al compito anzitutto di scrivere il PDTA quindi il percorso diagnostico-terapeutico che dovrà essere la guida a quello che andremo a fare ma anche stabilire chi fa che cosa quindi a distribuire sul territorio le competenze e le tecnologie che dovranno governare il sistema di emergenza e urgenza campano riguardo alle emergenze gastroenterologiche. Un punto d'orgoglio se mi posso permettere è la specialità che abbiamo proprio a Caserta e provincia perché abbiamo due professionalità appunto il professore Cuomo e la dottoressa Bottiglieri che sono di due aziende diverse che insistono sullo stesso territorio che si stanno impegnando sinergicamente e stanno coinvolgendo naturalmente le direzioni su questa integrazione che è necessaria e imprescindibile perché purtroppo come in tutte le realtà ci sono poche professionalità tecnologie vetuste e bisogna mettere insieme le energie perché il sistema diventi efficace e valido quindi lo sforzo è questo e speriamo veramente di riuscire a portare a casa risultati in tempi brevissimi perché è fondamentale per il paziente. Siamo con il professor Giannini che si occuperà di epatocarcinoma possibilità per terapeutiche in che modo si può curare un paziente con cancro al fegato quali sono le tecniche più possiamo dire all'avanguardia più moderne? Il paziente con tumore primitivo del fegato si giova sostanzialmente di una gestione che ricomprende più specialisti non soltanto il gastroenterologo che comprende la gestione della malattia di base del paziente e anche quella del tumore ma in una gestione multidisciplinare il supporto dell'oncologo del chirurgo del trapiantologo del radioterapista del radiologo interventista non bisogna dimenticare che il tumore primitivo del fegato cioè l'epatocarcinoma insorge in pazienti che solitamente hanno una malattia cronica di fegato la cui gestione è estremamente complicata complessa e difficile e necessita di capacità specialistiche nello scegliere la terapia per questi pazienti tutte queste condizioni vanno tenute in adeguato conto oggi come oggi sono state sviluppate anche terapie sistemiche stante il fatto che la vecchia chemioterapia nel paziente con tumore primitivo del fegato non aveva efficacia e somministrata a pazienti con un fegato con una funzione non buona determinava risultati non accettabili vi sono terapie sistemiche che permettono una riduzione del carico tumorale della massa tumorale e permettono poi la gestione del paziente che apparentemente non potrebbe avere altre scelte terapeutiche in maniera multidisciplinare con terapie anche curative in questo non bisogna dimenticare che essendo come dicevo precedentemente un tumore che insorge in pazienti che hanno altre malattie di fegato la gestione della cirrosi epatica della possibile comparsa di complicanze della stessa è essenziale per permettere al paziente una sopravvivenza adeguata a prescindere dal tumore la vita di questi pazienti dopo naturalmente l'operazione non è soltanto l'intervento che deve essere eseguito in pazienti molto ben selezionati proprio per fare quello che diceva lei la selezione del paziente per esempio per tecniche chirurgiche è essenziale per far sì che il paziente non abbia soltanto una buona sopravvivenza per quanto riguarda la neoplasia ma una buona sopravvivenza per quanto riguarda la malattia di fegato per evitare che questa si scompensi come viene detto in gergo tecnico e la sopravvivenza del paziente la sua qualità di vita possa essere accorciata e peggiorata rispettivamente da un intervento che non era adeguato per cui ancora una volta una decisione quella terapeutica non soltanto chirurgica che deve essere presa con il concerto di più specialisti che valutino nella loro integrità il paziente affetto dal tumore primitivo del fegato professoressa Mauresco si parlerà naturalmente anche di epatite ma qual è lo stato dell'arte? Epatite significa infiammazione del fegato e la mia relazione invece sarà prettamente rivolta alle forme di epatite virale che sono state in una piaga per l'Italia e soprattutto per la nostra regione dove la diffusione epidemiologica negli ultimi 30 anni è stata davvero devastante per fortuna da appunto 20-30 anni noi abbiamo cominciato ad avere dei farmaci molto efficaci e con questa possibilità che sono gli antivirali e con queste possibilità terapeutiche noi abbiamo sicuramente sconfitto l'infezione da virus dell'epatite C che è stata quella epidemiologicamente più rilevante ma sicuramente abbiamo delle armi anche importanti per controllare l'epatite di tipo B e adesso finalmente dopo tanto tanto tempo dalla sua scoperta recentemente proprio nel 2023 è stato possibile avere un farmaco che primo in assoluto controlla parzialmente la replica del virus dell'epatite delta che fino ad ora non aveva nessuna possibilità terapeutica è un farmaco che si svilupperà molto nei prossimi mesi avremo molte informazioni aggiuntive rispetto a quelle che abbiamo attualmente e verosimilmente come dire è una prima apertura una prima possibilità un primo step verso poi situazioni terapeutiche ancora più efficaci le forme di epatite virale hanno condotto nel corso degli anni tantissimi pazienti alla cirrosi e dal trapianto di fegato e da quando esistono invece questi antivirali sia per il B che per il C e adesso per fortuna anche per il delta tantissimi pazienti hanno avuto bisogno di effettuare un trapianto epatico da quando ci sono questi farmaci invece le liste di attesa per questo tipo di malattie si sono notevolmente ridotte liberando finalmente la possibilità di avere organi anche per altre patologie io farò una disamina su quello che sono le problematiche legate a questo argomento e spero che avremo molte molte soddisfazioni da questo da questo topic diciamo così epatologico tanti naturalmente gli argomenti che saranno affrontati in questi due giorni in modo particolare si parlerà anche del fegato e noi siamo con il dottor Carasceni lei in modo particolare si occuperà del paziente con ascite e in questo nella gestione ci sono novità come siamo messi? Sì buongiorno innanzitutto sì il paziente con cirrosi e ascite che è l'accumulo di liquido nella pancia nell'addome è un paziente con una malattia avanzata negli ultimi anni sono emerse delle nuove terapie che si stanno consolidando oltre l'obiettivo della terapia è quello di rimuovere il liquido dalla pancia generalmente viene fatto con i diuretici che permettono appunto al paziente di urinare maggiormente durante la giornata a questo ed è una ricerca propriamente italiana si aggiunge adesso la possibilità di infondere dell'albumina che è una sostanza che è già presente nel nostro organismo e che ha visto in un ampio studio italiano multicentrico essere in grado di aiutare molto questi pazienti nel risolvere il problema vi è anche la possibilità di inserire una sorta di stenta attraverso il fegato che si chiama TIPS che favorisce anche in questo caso la mobilizzazione dell'ascite ma questo avviene in un limitato numero di pazienti e poi se la situazione non dovesse migliorare insieme ad altre condizioni alcuni di questi pazienti sono candidabili al trapianto di fegato quindi anche una malattia avanzata con ascite è in grado di in questo momento di essere trattata ed essere anche in alcuni casi non tutti risolta l'ultima cosa è importante in ogni caso escludere la causa della malattia di fegato quindi se ci sono i virus trattare il virus se c'è un'assunzione di alcol eliminare completamente l'alcol perché in questo caso è possibile anche che la malattia si fermi e possa tornare indietro e garantire una vita quasi normale e anche molto lunga la prevenzione è sempre l'arma vincente assolutamente questi pazienti hanno bisogno di un'alimentazione regolare non ridotta anzi devono essere pazienti con una buona alimentazione e la dieta mediterranea in questo è molto adatta e inoltre devono evitare i fattori di rischio e in questo momento sicuramente l'alcol per quanto riguarda il fegato e per quanto riguarda le malattie avanzate è purtroppo assolutamente da eliminare completamente professore Marmo oggi si parla in modo particolare anche di screening al colon retto quali sono i dati qual è la situazione attuale i dati sono questi il colon retto si rivolge a entrambi i generi quindi genere maschile e femminile nella fascia compresa tra i 50 e i 74 anni i dati campani che presento oggi mostrano un miglioramento netto rispetto al passato lei saprà che con la pandemia covid abbiamo avuto in tutta Italia ma nel mondo una riduzione della partecipazione e i dati che faccio vedere dimostrano che non solo siamo ritornati ai livelli pre-covid ma abbiamo un miglioramento anche sui dati pre-covid e quindi in campagna la tendenza è quella di un miglioramento deciso della partecipazione allo screening non è ancora l'ottimale quindi colgo l'occasione anche per rivolgerci a chi ci ascolta di partecipare all'invito la campagna sta inviando lettere alla fascia d'età al domicilio alle case dei nostri assistiti li invito a partecipare perché prevenire è meglio che curare e lo schieno in color retto rimuove il precursore del cancro quindi noi riusciamo a evitare che insorga il cancro non soltanto facciamo diagnosi precoce ma evitiamo che il cancro insorga si muore ancora di questa patologia? si muore di meno rispetto al passato le terapie sono decisamente più avanzate ma ahimè si muore ancora quindi il messaggio che mi preme portare all'attenzione di chi ci ascolta è partecipare allo screening la mia relazione di oggi è totalmente focalizzato su un batterio che induce una gastrite solitamente quando è presente c'è anche una gastrite ed è un fattore di rischio non solamente per l'ulcera peptica ma anche per il cancro gastrico le novità più importanti sono di linee guida europee che io ero stato diciamo il principale iniziatore e dove abbiamo lavorato su vari temi le indicazioni quando bisogna fare un test della presenza di questo batterio helicobactopilori come trattarlo siamo attualmente in una situazione particolarmente delicata anche perché molte resistenze sono nate verso antibiotici sempre di questo batterio e quando lo troviamo deve essere curato per proprio anche in persone nelle quali si fa la prevenzione anche se sono asintomatici e se l'infezione con questo batterio viene trovata bisogna trattarlo in questa maniera si riesce a prevenire quelle malattie che avevo accennato ulcera e soprattutto il cancro gastrico con una diciamo altissima probabilità che non succede più una malattia così grave quanto sono importanti questi incontri professore anche per come dire fare rete tra voi professionisti questi eventi educativi a questo livello come qui a Caserta sono importantissimi perché ognuno di noi anche se curiamo pazienti con disturbi digestivi ha una specialità a livello di conoscenza ancora più specifica e impariamo l'uno dall'altro naturalmente abbiamo anche la possibilità di scambiare vedute di parlare anche delle necessità di ricerche che dobbiamo nelle quali ci dobbiamo imbarcare perciò questi eventi anche di persona dopo il periodo così scupo del covid è fondamentale per riprendere diciamo anche la motivazione di studiare è di fare poi la comunicazione ai colleghi che sono qui non strettamente del mondo accademico possono apprendere informazioni importanti per la loro pratica quotidiana perché c'è uno sviluppo diciamo in passato si diceva ogni sette anni si ripete ma oggi diciamo ogni pochi mesi abbiamo delle novità a livello di possibilità anche di trattamenti che bisogna condividere con tutti questa diciamo è la cosa principale tra gli argomenti di queste giornate gastroenterologiche c'è la celiachia quali sono le novità sicuramente tante buone novità per i nostri pazienti celiaci noi sappiamo che la terapia per la malattia celiaca è la dieta senza glutine che è essenziale per avere una remissione dei sintomi e un ripristino del danno intestinale provocato dal glutine però qualche novità la stiamo avendo e l'avremo probabilmente in futuro chiaramente c'è delle terapie che probabilmente si potranno associare o chissà in un lontano futuro anche sostituire la dieta senza glutine sono le terapie che hanno l'obiettivo in qualche modo di evitare che il glutine faccia il danno che ad oggi fa cioè quello di danneggiare la mucosa e appunto produrre degli anticorpi ci sono diversi studi su diverse molecole di cui appunto ho parlato nel corso della mia relazione che sono in una fase iniziale siamo in una fase 2 dei trial però già i primi risultati sono sicuramente promettenti quindi una piccola speranza per i nostri pazienti come mai l'aumento di ciliaci negli ultimi anni? beh ci sono probabilmente tanti i motivi uno dei tanti è sicuramente che la conosciamo meglio conoscendo meglio la malattia la cerchiamo la cerchiamo nei pazienti non solo quelli con sintomatologia classica ma anche nei familiari nei pazienti con patologie associate abbiamo degli anticorpi sicuramente molto efficaci con un'accuratezza diagnostica molto elevata che ci consente di fare ottimi diagnosi come si fa a capire che si ha ciliaci? beh i sintomatologie molto varie possiamo avere sintomi gastrointestinali così come extra intestinale sentirsi stanchi essere anemici sono tutti segnali che possono far sospettare la ciliachia quindi sicuramente al minimo dubbio recarsi dal proprio medico che farà fare degli anticorpi e la ricerca degli anticorpi nel sangue e da lì poi parterà tutto l'iter diagnostico per la malattia celiaca quindi si può convivere con la ciliachia? assolutamente assolutamente la dieta senza glutine che appunto ripeto è la terapia oggi per la malattia celiaca e sì comunque inizialmente può determinare delle preoccupazioni per i nostri pazienti ma sicuramente oggi abbiamo tante possibilità tanti ristoranti e tanti servizi che offrono una dieta senza glutine quindi la vita dei nostri pazienti può essere semplice Dottor Assano si parla oggi di intelligenza artificiale in endoscopia quanto è importante? Sì diciamo che la cosiddetta computer vision che permette la identificazione di lesioni oppure l'analisi delle immagini ha trovato in endoscopia un terreno tremendamente fecondo perché tutte le applicazioni che adesso sono in real time andranno a impattare pesantemente l'endoscopia inoltre c'è una seconda tecnica di intelligenza artificiale che lavora sul linguaggio che adesso a tutti è famosa per chat GPT eccetera questa sarà capace di scrivere i nostri referti di spiegare ai nostri pazienti le diagnosi e a fare delle analisi di qualità risparmiando molto in termini di risorse umane sicuramente molto d'aiuto ai professionisti sì sicuramente è il più grande aiuto che sia mai venuto e possa mai venire nei prossimi anni per cui sicuramente al di là di tutti i problemi regolatori etici eccetera e prima o poi troverà tutto il suo spazio si va sempre di più verso l'innovazione anche in questo settore sì anche un'innovazione molto più veloce rispetto all'innovazione alla quale eravamo abituati adesso che era l'innovazione più di hardware o tecnologica eccetera questa è un'innovazione velocissima da quando questi ingegneri fanno l'algoritmo che viene implementata una pratica clinica non passano più di due o tre anni Professor Lommardi stamattina una sorrelazione sulla rete dell'emergenza endoscopica in Campania qual è lo stato dell'arte qual è la situazione lo stato dell'arte allora diciamo che la regione da un mese circa ha deciso di prendere di nuovo provvedimenti in merito alla realizzazione della rete delle emergenze ci sono una serie di criticità che sono diciamo in particolare legate al mancato rispetto del numero delle unità operative complesse previste del numero di posti letto previsti in qualche modo la nostra rete funziona perché diciamo i nostri hub i nostri spoke della Campania sono connessi ma a livello personale diciamo tra i vari professionisti interessati in questa rete delle emergenze ma per poter parlare concretamente di rete delle emergenze la regione dovrà dar seguito agli impegni presi con il decreto regionale del dicembre 2018 e quindi lunedì proprio avremo un incontro in regione la regione sembra che stia accelerando diciamo nella direzione della realizzazione finalmente della rete delle emergenze e quindi siamo sulla buona strada ma aspettiamo diciamo di mettere qualche tassello ulteriore perché sia completamente realizzata lei parla di tasselli ulteriori ce ne dica uno allora sicuramente il personale la formazione del personale il training l'emergenza è un setting particolare della gastroenterologia e della gastroenterologia d'urgenza la Campania ha 66 ricoveri ogni 100.000 abitanti per le urgenze è la seconda regione d'Italia per numero di ricoveri in gastroenterologia e quindi un impegno importante per tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione di questa rete e poi la dotazione ovviamente oltre che del personale medico e del personale infermieristico adeguatamente trainato diciamo così alla endoscopia d'urgenza anche le apparecchiature perché è un setting particolare in cui gli accessori device da utilizzare sono leggermente differenti da quelli dell'endoscopia diagnostica tradizionale Professor Galasso si parla sempre di più di ERCP cosa si nasconde dietro a questa sigla e poi è una procedura diffusa questa? Allora cosa si nasconde dietro l'ERCP si nasconde una procedura inventata circa 30 anni fa in Giappone in cui con lo strumento endoscopico si sono affrontate le problematiche delle vie biliari e del pancreas quindi in maniera diciamo così mini invasiva rispetto alla chirurgia che era l'unica alternativa allora e quindi senza tagliare la pancia in pratica ci si intrufola nell'intestino del paziente e si adopera sulle vie biliari vie biliari che è la patologia più frequente a cui questa procedura è dedicata è la litiasi delle vie biliari che succede che un calcolo presente nella colecisti può migrare o può formarsi spontaneamente nella vie biliare quando questo accade il paziente può andare incontro a delle coliche cioè dei dolori addominali può diventare eterico con il colorito giallo della cute degli occhi e praticamente ovviamente il paziente si spaventa e ricorre a questa procedura che è una procedura mini invasiva che si fa con un minimo di ricovero attraverso la quale con l'endoscopio il medico praticamente estrae i calcoli o viceversa è una procedura che si diciamo propone purtroppo nella nostra comunità casertana registriamo un incremento diciamo della patologia neoplastica pancreatica quindi diciamo l'ittero cioè l'ostruzione delle vie biliari si determina da un aumento del volume del pancreas che occlude la via biliare per cui il paziente diventa eterico per una patologia neoplastica anche in questo caso l'endoscopia è utile per la comunità perché in pratica si posiziona un bypass nella via biliare e quindi ripristina il regolare flusso di bile molto diffusa questa procedura? Allora nella provincia di Caserta è diffusa in tutti gli ospedali in pratica si fa perché è una procedura rutinaria ben consolidata per cui diciamo sicuramente è presente nei vari distretti con volumi diversi come capita in ogni situazione però diciamo è diffusa sicuramente in tutta la provincia di Caserta Professoressa Conigliaro ecco endoscopia una parola che sembra così difficile ma di cosa si tratta e che ruolo ha si tratta di una metodica combinata come dice la parola stessa ecoendoscopia associa l'ecografia e l'endoscopia l'endoscopia normalmente è quella metodica che tutti conoscono che permette attraverso uno strumento che entra dentro il corpo delle persone in questo caso noi parliamo dell'apparato digerente perché ci stiamo occupando di questo entra dentro e nell'associazione con l'ecoendoscopia sulla punta di questo strumento endoscopico c'è una testina ecografica che ci permette di fare un'ecografia interna esattamente come succede nella quella vaginale in quella prostatica che forse tutti conoscono meglio perché è cominciata molto prima è una metodica che ha circa vent'anni quindi relativamente giovane ma che ultimamente ha conosciuto molta evoluzione nella sua parte interventistica perché fino a qualche anno fa era sostanzialmente una diagnostica che serviva per stadiare i tumori serviva per fare qualche prelievo come in tutte le metodiche ecografiche ecografia ecoendo guidate però si fermava diciamo sostanzialmente una parte diagnostica dagli ultimi anni grazie all'evoluzione tecnologica di alcuni accessori che noi possiamo utilizzare sta diventando sempre di più una metodica che invece può portare come dire a un'interventistica importante sostituendo anche interventi chirurgici soprattutto nella palliazione dei tumori questa è l'indicazione principale e quindi molto diffusa è molto utile è molto utile ma ancora in Italia non è affatto molto diffusa perché è molto complessa come metodica perché associa l'expertise dell'endoscopia avanzata con un'ecoendoscopia avanzata quindi ancora in Italia non è assolutamente molto diffusa al sud ancora meno devo dire perché anche poi è relativamente giovane obiettivamente in più è abbastanza costosa perché bisogna acquisire strumenti che hanno bisogno di un ecografo di top level cioè di alto livello è un ecoendoscopio che costa più di un'endoscopia normale e purtroppo nelle nostre aziende è sempre un problema riuscire a ottenere della tecnologia costosa